lo sai che l'attacchipirina da 500 se ne prendi due diventa mille benvenuti ragazzi in questo nuovo video dello sguarnista per ora sono da solo ragazzi sono in sella al mio 701 questo perché stiamo andando al lago di seo abbiamo fatto anche la storia sia io che leo perché andremo appunto incontrare per la prima volta leo ask col suo t e 302 tempi ci incontriamo e non ci scambiamo le moto dai figa dai meno per me è scontato in ogni caso gliela rubo non c'è nessun problema teoricamente adesso ci dobbiamo incontrare con gazz e la sua mt07 andiamo più o meno appunto verso il lago di seo ma non ci fermiamo al lago di seo ma ci fermiamo a rodengo saiano è già arrivato attenzione ragazzi vi saluto ci vediamo direttamente quando siamo là a rodengo saiano e dove c'è il mac solo per quello e dopo ci rincontreremo magari direttamente con leo a dopo grazie google maps di avermi fatto saltare l'autostrada invece no e vaffan te la pago io l'autostrada non ti preoccupare però mi sta sul c***o che ho messo le vita pedaggi ci ritroviamo qua con sto fogliettino fetuso bastasu ragazzi facciamo il punto della situazione sono 10 e 20 siamo partiti un po troppo in anticipo l'aria in faccia dopo 100 chilometri figa ti spacca adesso facciamo gli ultimi 30 chilometri da quanto ho capito che ci mancano abbiamo conosciuto una coppia di bmwisti simpaticissima ma non dovevamo fare l'autostrada non sbatti che evita pedaggi di google maps è paragonabile a non gliene frega un c***o tanto faghi te ragazzi ci vediamo dopo 10 euro di autostrada pezzi di allora finalmente siamo quasi arrivati con mille tribulazioni perché tra l'altro poi ogni volta che vedevo scritto autostrada mi prendevo male non volevo pagare altri 10 euro per farmi 80 chilometri 60 chilometri dai siamo arrivati adesso stiamo cercando il mac dovevamo incontrarci alle 11 e mezza sono le 11 20 ragazzi non sono mai stato così preciso forse intravedo qualcosa perché sennò me la mettono come copyright quindi non posso non posso metterla trovato minchiera ora ciao attenzione attenzione finalmente ci vediamo davide allora allora come ti trovi va bene va bene ragazzi adesso mangiata tattica e poi ritorniamo in sella perfetto ragazzi adesso partiamo per il giro teoricamente dove andare a Iseo poi pala com'è che si chiamava pala volano cos'è pala il posticino dove c'erano tutte le curve devo andare vabbè fa niente in un posticino dove fare un po di curve poi ritorniamo indietro di nuovo Iseo e iniziamo il giro del lago ci sarà da ridere secondo me o da piangere la seconda dipende chi si schiena let's go Sì Ragazzi come potete vedere Siamo sopra A Dove cazzo siamo? Polaveno 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 Ragazzi siamo qua sul Polaveno Come potete vedere Cioè è vista spettacolare In mezzo alla strada Tanto non passa nessuno Ci sdragliamo in mezzo alla strada Titolo Clicguete È caduto La montagna Frana Eeeh Eeeh Adesso ragazzi Scendiamo Ritorniamo a Iseo E poi L'hovera a fare il bagno In mutande Facciamo la gara molto spenta Ti prego Ok allora io ho questo Questa è più di del tuo adesso Se facciamo la gara molto spenta Cioè Boh wow Però è il mio C'è il 50 kg 3 2 1 Vai No No Cazzo Deeeh Ma quanto vola Oh ma porco Giuda Stai pieno Figa che rincoglioniti Ti recupero Ti vengo a prendere Ti vengo a prendere Merda Ma quanto stiamo andando Giusto per curiosità Oh Siamo andando a 60 all'ora Hai visto? Sì che hai vinto Il tizio Il tizio che fa così E' quel Ducati che fa così C'era quello con la Ducati che ci ha sorpassato Ma come potete vedere siamo arrivati al porto di Lovere Dopo un ben po' di pioggia che fortunatamente si è riusciti a evitare per poco Cioè tra l'altro dove ho staccato Cioè tra l'altro dove ho staccato mancava un chilometro e mezzo a Lovere e come potete vedere Non c'è un goccio di pioggia Che fa pelare è che avevo tipo invitato 3-4 amici E in realtà ci sono 4TM che stanno appena facendo la foto E' un Leo Non so se ce la fate Secondo me è galleggia No 701 302 tempi TM302 tempi K125 4TM 125 Rada Completamente in carbonio E vediamo uscito un raduno Ma quanto fa sesso? Cioè tipo veramente Green Gazer Fammi una pippa Poi con quel borsellino là Fa proprio pippa veramente Molto bene raga Adesso andiamo in un posto a fare due tuffi Poi credo di spegnere il video Perché con due ore di registrazione E stavolta Non utilizziamo la nostra moto Se ma sta calmo Come chi Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.